Il Borgo Medievale di Agropoli dà sempre fiore all'occhiello della città a una nuova associazione senza scopo di lucro, che mira alla valorizzazione e rilancio del posto. L'idea è nata dall'unione di dieci attività commerciali che insistono nel borgo, che hanno in comune la volontà di valorizzare il luogo che rappresenta il fulcro della vita turistica agropolese. L'associazione Commercianti Il Borgo punta sulla condivisione e la partecipazione, proponendo e realizzando attività che possano migliorare sempre di più la vita sociale e fungere da attrattore per i tanti turisti che affollano il centro storico. Socio onorario dell'associazione è Don Carlo Pisani, parroco della parrocchia di Santissimi Pietro e Paolo, simbolo di una comunità che rispetta antichi valori. Il contributo di Don Carlo darà lustro, prestigio e spessore culturale all'associazione, che è strettamente legata al borgo mediovale di Agropoli, un unicum nel territorio occidentano, per la sua struttura secolare che consente alla parte più antica della città di essere molto vicino al mare. Agropoli è un paradiso che i commercianti vogliono tutelare e sponsorizzare, pertanto si impegneranno a fare rete per la crescita di una città che mira sempre più in alto.